Ragazzi oggi è lunedì il che significa che è tempo di giveaway e oggi il vincitore della giveaway è Daniele Catino e quindi congratulazioni a Daniele e grazie mille a tutti quanti gli iscritti e se non siete ancora iscritti e potreste considerare di farlo sarebbe assolutamente fantastico e inoltre ogni lunedì facciamo una nuova giveaway e per partecipare basta soltanto essere iscritti e seguire le istruzioni che spiegherò in qualsiasi momento durante il video e come sempre buona fortuna a tutti e adesso cominciamo con il video. Ragazzi quello che state vedendo qui a destra sono le persone che stanno cercando di far andare gli altri nel panico vendendo e ricomprando bitcoin ad un prezzo molto basso e trasferendolo fuori dall'exchange e quindi parleremo di questo perché come sapete penso che i pesci grossi hanno ancora il controllo del mercato e questi dati lo dimostrano e parleremo anche di bitcoin sui tempi più brevi ma anche per quanto riguarda i tempi più lunghi e in realtà parleremo anche di ethereum perché abbiamo qualcosa di interessante e poi vi parlerò anche di altre metriche on chain per quanto riguarda bitcoin e quindi spero che siate pronti e come sempre ragazzi bentornati a tutti mi chiamo marco portano video riguardo le cripto di giorno mostrano come fare soldi in questo mercato e se siete nuovi potreste considerare l'iscrizione e attivano anche la campanella sarebbe assolutamente fantastico e quindi cominciamo direttamente con il grafico da 4 ore per quanto riguarda bitcoin perché come sapete la fascia lancione che abbiamo credo che continuerà ad essere un grande supporto e finora sta effettivamente facendo un buon lavoro nel supportare bitcoin perché siamo scesi al di sotto di essa e possiamo anche vedere che la linea rossa è molto molto importante possiamo vedere che abbiamo avuto così tanti problemi a superare questo punto esatto ma dal momento che siamo saliti lì sopra di esso questo è andato a supportare il prezzo di bitcoin e anche la candela in cui ci troviamo in questo momento è stata supportata da questo livello quindi adesso ci stiamo consolidando e potremmo andare di lato per un po' di tempo e inviterei soltanto tutti quanti a non perdere la fede per quanto riguarda bitcoin perché se dovreste vendere tutto quanto adesso potreste ritrovarvi nella stessa posizione delle persone che hanno venduto nel 2018 quindi quando hanno venduto nel mercato bearish del 2018 le persone si sono annoiate le persone sono uscite dal mercato e hanno perso il vantaggio che è venuto di seguito e quindi qualunque cosa facciate anche se le cose sono molto lente per il momento le cose sono noiose sono molto noiose se per esempio non avete solo investito in bitcoin ma siete anche coinvolti con per esempio gli nft e tutto il resto che sta succedendo con il mercato allora vi è molta tensione nel quadro generale ma se siete soltanto un trader in bitcoin allora non sta succedendo molto in questo periodo e quindi siamo proprio adesso al di sopra del supporto qui il che non sembra troppo male e una volta che appunto si presenterà l'opportunità saremo appunto in grado di cogliere questa opportunità per quanto riguarda bitcoin e andando avanti voglio anche mostrarvi il grafico settimanale come sapete vi ho detto ieri che stavamo per chiudere la candela in questo modo sotto la linea rossa ed è quello che abbiamo fatto quindi questo sembra un nuovo test su questa linea di tendenza che conferma la rottura e ora potremmo scendere di nuovo e l'unica cosa è che abbiamo l'enorme supporto su questo grafico quindi i grafici sono contrastanti per adesso il grafico settimanale sta segnalando ulteriori discese sui tempi più lunghi ma quello da 4 ore invece ci sta dicendo che abbiamo un grande supporto in questa zona e quindi basta considerare entrambi questi scenari ma prima di parlare anche di dati on chain per quanto riguarda bitcoin se volete anche richiedere bonus fino a 3500 dollari su femex potete usare il link in descrizione potete anche ricevere fino a 4530 dollari su bybit e fino a 8000 dollari su ctrade e quindi ragazzi invece adesso parliamo di ethereum perché in realtà ethereum sembra davvero molto interessante dopo essere scesi ed aver fatto questo tipo di fondo arrotondato per ethereum che voglio mostrarvi abbiamo iniziato invece poi a salire e come sapete la fascia lancione ha dimostrato di essere una resistenza molto forte abbiamo provato a superarla più volte ma abbiamo avuto un piccolo fake out e dopo abbiamo cercato anche di superarla per 3 volte in questa zona e poi abbiamo cercato anche di superarla altre 3-4 volte e siamo adesso dentro questa fascia lancione ma come minimo potete vedere che abbiamo fatto anche una serie consecutiva di minimi più alti e quindi se superiamo questa fascia lancione credo che avremo un rapido aumento fino a 3675 dollari in questa linea lancione e quindi prestate attenzione a questo per ethereum perché siamo ad un punto interessante adesso siamo andati giù ma abbiamo anche cercato di superare questo livello con le candele orarie molte molte volte e ora invece andiamo ai grafici on chain perché voglio anche mostrarvi un grafico molto molto importante perché se guardiamo questo grafico esatto potete vederlo molto bene perché è quello che possiamo vedere che abbiamo ancora una volta una tendenza qui se guardiamo a destra quindi durante l'ultima settimana in pratica dove abbiamo avuto più bitcoin trasferiti fuori dall'exchange piuttosto che bitcoin trasferiti dentro l'exchange e quindi quando è rosso significa che più bitcoin vengono trasferiti fuori dall'exchange e come sapete ho avuto questa tesi soprattutto quando abbiamo visto che i pesci grossi stavano trasferendo bitcoin dentro l'exchange ho pensato che avrebbero cercato di manipolare il mercato per abbassare il prezzo e poi comprare bitcoin da un prezzo più basso dagli investitori al dettaglio che vendevano nel panico e poi avrebbero trasferito fuori dall'exchange e potete vedere che sta ancora succedendo proprio adesso potete vedere che le persone in generale stanno trasferendo bitcoin fuori dall'exchange e anche quando il prezzo stava scendendo bitcoin è stato trasferito fuori dall'exchange il che è molto molto insolito perché di solito quello che vediamo è che il prezzo scende quando le persone si trasferiscono appunto nell'exchange proprio come abbiamo visto appunto in questa zona qui quando è verde significa che più bitcoin vengono trasferiti nell'exchange e vediamo il prezzo in grigio appunto di bitcoin che è sceso e quindi di solito quello che vediamo è ha senso perché se le persone trasferiscono bitcoin nell'exchange molto probabilmente andranno a vendere ed il prezzo scende molto molto facilmente e quindi le persone che sanno le persone che influenzano il mercato stanno trasferendo bitcoin fuori dall'exchange dopo aver portato a termine quella discesa e credo che l'abbiano proprio fatto e sarò alla ricerca di altre cose appunto del genere in corso e quindi se vi piace come sempre ragazzi assicuratevi di iscrivervi al canale e di attivare anche la campanella delle notifiche ma in generale le persone si stanno ritirando in bitcoin nell'exchange che è molto interessante e ora voglio anche parlare del no poll e quindi questo è un grafico di cui abbiamo parlato nel corso della storia su questo canale e se ingrandisco qui possiamo anche vedere che quando siamo entrati nel no poll qui eravamo molto vicini nel blu e quindi il punto blu in generale segna il massimo per quanto riguarda bitcoin e quindi ogni volta che entriamo nel blu proprio come abbiamo fatto nel 2017 di solito scendiamo nel prezzo di bitcoin e l'abbiamo appena toccato non siamo proprio andati nel blu e questo è anche uno dei motivi per cui siamo stati in grado di essere prudenti in quel periodo perché se andiamo verso il blu in generale porta ad aumentare il mercato, porta ad un mercato bearish, un trend molto bearish ma qui non ci siamo arrivati il che era positivo perché siamo scesi, abbiamo raccolto più slancio e poi siamo saliti e abbiamo creato un nuovo punto massimo solo un paio di mesi dopo e questo è completamente in linea con la tesi che avevamo in realtà una volta che è successo ma potete anche vedere che adesso siamo molto molto bassi sul no poll il che significa che rispetto a prima abbiamo molto spazio per crescere per il prezzo di bitcoin per crescere prima di entrare nell'area blu e quindi questa linea tratteggiata nel no poll non vogliamo attraversarla su questo grafico e possiamo anche vedere che il prezzo può salire veramente veramente tanto adesso abbiamo ancora molto spazio per crescere finché non entreremo ben al di sopra di questa linea proprio qui adesso stop un attimo il video vi spiego come partecipare alla giveaway per partecipare alla giveaway dovete semplicemente essere iscritti al canale e rispondere a questa domanda nella sezione dei commenti quando pensate che bitcoin raggiungerà il suo nuovo massimo storico e quale pensate che sarà il suo nuovo massimo storico fatemi sapere nei commenti ed inviate anche il vostro portafoglio di Binance Smart Chain altrimenti non possiamo selezionarvi come vincitori e dovete inviarlo soltanto una volta quindi se rispondete a più domande basta che l'avete inviato soltanto una volta e noi controlleremo e quindi buona fortuna a tutti e adesso continuiamo con il video e quindi questa è una cosa molto positiva per bitcoin nei prossimi mesi a venire se credete che raggiungeremo di nuovo un massimo storico in bitcoin ebbene ragazzi questo sicuramente starà forzando quella tesi e questo qua è anche tutto quanto quello che ho per voi per quanto riguarda questo video spero come sempre che vi sia piaciuto fatemi sapere nei commenti e come sempre ci vediamo nel prossimo ciao a tutti